Riaprono gli uffici comunali di Mussolente dopo il periodo di chiusura legato a un caso di positività tra i dipendenti. La riapertura avviene nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dopo che tutti i dipendenti e gli amministratori si sono sottoposti a tre tamponi nel periodo tra il 6 e il 16 marzo. In tutti i casi tamponi negativi. Il municipio è stato inoltre sottoposto a due complete sanificazioni e fin tanto che il Veneto sarà in zona rossa per accedere agli uffici comunali sarà sempre necessario chiamare e chiedere appuntamento.